Ben ritrovati, ben ritrovati! Dovrebbe essere la notizia di giornata, uso il condizionale perché quando non è coinvolta la Juventus, la narrazione, il clamore, evidentemente a poca presa e quindi si preferisce restare sempre schisci. Per chi non lo sapesse sono stati arrestati 18 ultras di Inter e Milan per potenziali infiltrazioni mafiose nelle curve di San Siro, le misure cautelari sono state eseguite di primissimo mattino all'alba da finanza e ovviamente polizia. Non voglio entrare minimamente nei dettagli perché credo che sia giusto che poi chi di dovere abbia la possibilità di portare avanti vicende che sono più grandi di noi e infatti onestamente ho visto la conferenza stampa che c'è stata riguardo in mattinata, sentire delle risatine su una domanda che tra l'altro era estremamente pertinente, cioè non che le risate siano state fatte per il giornalista che ha posto il quesito, bensì sulla risposta la domanda era ma ci sono stati sostanzialmente i dirigenti che hanno informato a chi di dovere di avere determinati contatti, di essere in determinate posizioni, perché poi qua si apre il solito tema, ovvero di come le società siano sotto ricatto da parte di determinati personaggi. Risposta semplicissima, no e via di risate, come se si stesse parlando di fantacalcio mentre si stava discutendo di ultras arrestati, perquisizioni, solamente dire infiltrazioni mafiose, vengono i brividi e via di risate. Onestamente è un tipo di atteggiamento che non ho compreso e che però fa capire anche se vogliamo molto di come determinate cose vengano prese con estrema leggerezza. Ora, davvero voglio rimanere poco su questo tema perché fortunatamente mi interessa il calcio giocato e fortunatamente bis la Juventus è uscita a determinate vicende extracampo che hanno tenuto totalmente la nostra attenzione per quasi due anni. Ora è bello parlare di campo, di errori, di mercato, di Champions, però è oggettivo constatare come un determinato silenzio faccia parte nella cultura di coloro che se c'è la Juventus, ne parlo nel bene e nel male perché comunque parlare della Juventus mi porta notorietà, magari anche fittizia perché parliamo di click o in generale di like sui vari social, ma vi invito a riavvolgere il nastro, vi invito a ripescare la vicenda Alto Piemonte, vi invito a ripescare quando c'erano determinati dirigenti che non ci sono più la Juventus e che ricoprivano cariche apicali, vi invito a ripescare determinati tweet che subito associavano la qualunque alla Juventus con un atteggiamento anche da parte di inchieste giornalistiche che hanno lasciato estremamente a desiderare, ricordano che nessuno per esempio specificava di come la Juventus fosse parte l'ESA, ora invece la procura di Milano, prima di iniziare a sviluppare i vari temi, parte subito col dire che giustamente Inter e Milano sono parte l'ESA, e dico giustamente perché è ora di finirla con questo fenomeno che poi ha coinvolto purtroppo anche la stessa Juventus, che anche lì era parte l'ESA, ma determinate organizzazioni all'interno delle curve stanno rovinando le stesse, perché io dico sempre che ci sono tantissimi tifosi che frequentano la curva, e io l'ho frequentata fin da bambino, che lo fanno in maniera purissima, che lo fanno per passione, che lo fanno perdendoci soldi, perché poi la passione ti porta a viaggiare, a comprare, merchandising, quindi ovviamente la maggior parte delle curve è caratterizzata da persone per bene, questo va sempre specificato perché non si può generalizzare, però ci sono anche delle infiltrazioni, e non parliamo solamente della curva della Juventus, della curva dell'Inter, della curva del Milan, perché qui, se tutte le procure dovessero porre il loro focus sulla realtà dei fatti, credo che si scatenerebbe il mondo, e probabilmente ciò accadrà, perché mi sembra che finalmente da questo punto di vista si voglia fare chiarezza, prima era solamente coinvolta la Juventus e sembrava che questi problemi ci fossero esclusivamente a Torino, oggi invece scopriamo che a Milano probabilmente si andrà anche oltre, perché nei prossimi giorni emergeranno ulteriori dettagli, come vi ho detto ci sono in corso ancora delle perquisizioni, quindi un qualcosa che si potrebbe allargare a macchia d'olio, però io ricordo anche come per esempio Andrea Agnelli venne convocato dalla commissione antimafia, e per giorni, per giorni, per giorni venne puntato il dito contro di lui, contro i dirigenti, con delle illazioni purissime, con delle cose che nel tempo si sono dimostrate illazioni al 101%, però ora sono molto curioso di vedere anche come dal punto di vista mediatico verrà trattata questa grossa news su questi arresti e in generale sugli sviluppi della stessa vicenda. Poi io dico sempre che quali società andrebbero aiutate, perché se sei sotto ricatto comprendo perfettamente questo discorso che lo facevo per la Juventus e lo faccio anche oggi per Inter e Milan, perché ne ribadisco che stiamo parlando di partilese, però è tosta, cioè è un qualcosa che deve portare tutto il sistema Calcio Italia ad aprire davvero gli occhi su cosa stia accadendo nel mondo delle curve, su come qualcuno stia cercando di approfittarsene, qualcuno lo stia facendo da decenni, perché anche questo va specificato, non credo che determinati soggetti possano rappresentare degli enigmi agli occhi poi di chi deve vigilare, perché ci sono persone che evidentemente ha uno storico, questo storico ha portato magari a fare in modo che si potessero arricchire proprio lucrando sulla passione della stessa gente, quindi minacciando, obbligandoti a comprare un certo tipo di merchandising, facendo istruzionismo su differenti fronti, quindi lungi da me dire che queste siano situazioni semplici e che le società dovrebbero in un attimo poi smarcarsi per fare in modo che ci possa essere l'estrema legalità, ovvio che quello deve essere l'obiettivo, ma da centrare devi essere anche spalleggiato dalle istituzioni, perché se così non accade non vai da nessuna parte, anzi ti fai estremamente male. Però oggi parlando in giro, leggendo un po' qua e là, non ho avvertito lo stesso trattamento effettuato nel riguardo a Juventus quando era stata associata a una determinata parolina, che ora, che con la Juve l'avevano subito, mafia, 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 e qua invece giustamente si è più prudenti, si cerca di capire meglio, si cerca di fare un lavoro giornalistico al 101%, e io sapete che sulla qualità cerco di puntare sempre molto, in generale sull'informazione, sul verificare, ma qua uscendo anche da questi temi che sono estremamente complessi, e poi scrivere. Quindi voglio sperare che l'attendismo di qualcuno sia legato a fare maggiore chiarezza su una vicenda in continua evoluzione, però al tempo stesso, al tempo stesso, mi viene molto da pensare. Ecco, non volevo fare interamente il video su questo tema, ma le parole sono nate spontanee. Sono molto curioso, sono curioso, amici e amici che mi seguite, di vedere come andrà avanti questa faccenda. Per il resto, viviamo un'antivigilia bella di Champions, onestamente non vedo l'ora che sia mercoledì, pur, pur, sottolineando come l'avversario sia dei più complicati da affrontare, ma siamo in Champions e vogliamo vivere notti come queste. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo avere umiltà, dobbiamo avere rispetto nei confronti dell'avversario, ma anche nel nostro percorso. E quindi questo sarà un altro esame per cercare di velocizzare questo continuo processo di crescita. La squadra sta bene, ci sono giocatori che stanno crescendo, i nuovi innesti stanno poi comprendendo comprendendo cosa significhi giocare per questa società. Oggi sul canale ufficiale che abbiamo sul bianconero, su X, abbiamo chiesto ai tifosi qual è il giocatore tra i nuovi arrivati del mercato estivo, avervi maggiormente colpito, no? E tutti, quasi tutti hanno risposto Calulu. Ecco, anche io, se ora dovessi fare un nome, cioè il giocatore che più mi ha impressionato tra i nuovi arrivi, e dico Calulu. Calulu è il giocatore che fin qui mi ha dato maggiori vibes, poi gli altri sono molto forti, cioè non sottovaluto l'impatto di Conce Sao, la continua evoluzione di Copp, l'applicazione di Nico Gonzalez e tutti gli altri. Però il mio nome è Calulu, proprio come quello che hanno fatto in molti utenti del bianconero sul nostro canale X.